Ma siamo sempre lì, c'è loggia e loggia, diceva Lino Banfi, diceva e cantava Lino Banfi. No, in realtà Lino Banfi diceva e cantava, ma siamo sempre lì, c'è modo e modo. Ma io l'ho ripreso e l'ho un po' modificato. C'è loggia e loggia. Eh sì, cari signori, è proprio così, perché dovete sapere che le loggie sono di due tipi. Quelle che sono poco più di dopolavori, di sezioni dopolavoristiche, non per operai o per geometri, ma per avvocati, notai. Professionisti, elogie vere e importanti dove si decide, dove si conta davvero e dove si fanno le porcate più inenarrabili. Le prime, di questi, composte da questi che vogliono giocare a fare i massoni, non ci interessano alla fine. Ce ne frega niente, sono più che altro un fenomeno folcloristico, in senso lato. Le seconde sono molto più importanti e sono molte, molto più degne di studio. E io un pochino, un pochino, un pochino, ne mastico. E adesso, visto che sono una persona piena di fantasia, un complottista pieno di fantasia, vi voglio raccontare una novella. Una storiella. Una storiella. Una storiella. E' la storiella di uno, di uno stron, che faceva già parte di una loggia massonica. Però, di una loggia massonica, che non lo soddisfava e che non era ritenuta da lui stesso, importante. Ragion per cui si diede da fare, anni fa, per entrare in un'altra loggia massonica, in una seconda loggia massonica. Di ben altro spessore, di ben altro spessore. E ci riuscì, e ci riuscì. Fu la sua fortuna e la sua disgrazia più grande insieme. La sua fortuna, perché gli ha dato molto, e gli ha dato anni e anni buoni, buonissimi. E la sua disgrazia, perché poi, quando il bubone scoppia, scoppia. E non c'è modo di salvarsi. Non c'è modo di salvarsi. Perché dovete sapere che, soprattutto se volete entrare nelle loggie che contano, che contano, e questa contava davvero a livello internazionale, c'è un prezzo da pagare, c'è un biglietto d'ingresso da pagare. Ed è un prezzo molto, molto elevato. Se non che, questo stront, che era molto ambizioso e spregiudicato, pagò quel prezzo. Non ci pensò un attimo, e pagò quel prezzo molto elevato. E così facendo riuscì a entrare in questa loggia internazionale molto, molto, molto potente. E naturalmente, poi, col tempo, ci ha fatto entrare anche alcuni suoi amici intimi. Ma qual era il prezzo da pagare? Qual era il prezzo da pagare? Qual era il prezzo da pagare? Eh, qual era il prezzo da pagare, cari amici? Pensate un po' di voler entrare in un'associazione criminale. Se non vi vengono a cercare, vi fate vivi voi. Però, per entrare, vi dicono Eh, vuoi entrare? Bene, dimostra cosa sai fare. Vai a prendere il pizzo da quel commerciante. Eh, si inizia dai livelli bassi. E voi non potete dire Eh, voglio entrare, ma non vado a prendere il pizzo. Eh, non vado a riscuotere il pizzo. Perché, altrimenti, non entrate. E la stessa identica cosa, lo stesso identico meccanismo da quando mondo è mondo riguarda la massoneria. Ricordatevi che nella massoneria quella internazionale, quella che conta, non nei circoli dopolavoristici, eh, ma in quella che conta si entra da vivi e si esce da morti. si esce orizzontali, sempre e regolarmente. E cosa successe? Successe che bisogna partecipare a certi, a certi, a certi puntini, puntini, e si viene fotografati e si viene magari anche filmati in certi puntini, puntini. E così poi ci sono certe fotografie o certi video che rimangono in certi cassetti puntini, puntini, puntini e che in condizioni normali non finiscono neanche sulla scrivania del signorini di turno in condizioni normali. Invece, in condizioni anormali, puntini, puntini, puntini. Ma è un racconto fantasioso e quindi ci fermiamo qua. Iscrivetevi al mio canale Giorgio Riccardin. Se vi va, se vi va. E state lontano da massoneria e altre organizzazioni. Alla prossima!